Il 4 marzo è passato da un pezzo e l'essere al governo ha già le prime controbattute, perlomeno in Campania, dove il Movimento 5 Stelle porta a casa soltanto due ballottaggi, Avellino, dove Nello Pizza, PD e sei liste collegate, è nettamente in vantaggio su Vincenzo Ciampi dei Pentastellati e Orta Diatella nel Casertano. I Democratici perdono a sorpresa a Fragola, dove Domenico Tuccillo è stato sconfitto da Claudio Grillo, centrodestra unito. E se il Movimento subisce una battuta di arresto, anche la Lega non sfonda in Campania, relegata a forza marginale rispetto a Forza Italia, che come affermato da Paolo Russo, si definisce l'unico partito ad aver vinto. Forza Italia è il primo partito in Campania, non il primo partito della coalizione, è il primo partito in Campania e il centrodestra vince dappertutto, addirittura in alcuni comuni. Comuni è in ballottaggio con due liste, ma vince quel centrodestra quando è a trazione azzurza. Vince e stravince a Ottaviano, superando il 65% con Forza Italia al 20%, cifre da altri tempi. A quarto Rosa Capuozzo, senza 5 Stelle, non riesce a bissare il suo mandato. Al ballottaggio Antonio Sabino, appoggiato dal centrosinistra, è Davide Secone, anche questi sostenuto da liste di sinistra e appoggiato dal sindaco di Napoli, De Magistris. A Castellammare, al ballottaggio Gaetano Cimmino del centrodestra, è Andrea Di Martino, appoggiato da liste civiche. Da segnalare purtroppo a Qualiano, episodi di compravendita di voti.